Il sindaco da più parte arriva alla richiesta di una cittadinanza onoraria a Mertens, il comune è favorevole? Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio Comunale che da tantissimi cittadini perché tutti sono stati colpiti non solo ovviamente dal legame di Mertens con la città ma anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli quindi sicuramente noi avvieremo questo processo della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo una cosa opportuna ma anche un riconoscimento a un nostro cittadino che non solo ha dato tanto da punista sportivo ma che soprattutto ha dato tanto perché io mi auguro di dare tanto alla città perché testimoni il legame forte proprio e permanente con la cittadinanza Grazie a tutti Grazie a tutti